Cos'è un bolo alimentare? Nella digestione, un bolo alimentare è la massa di cibo formata in bocca dopo una completa masticazione e miscelazione con la saliva. Questa massa è chiamata bolo alimentare durante il suo viaggio dalla bocca lungo l'esofago. Una volta che il bolo è passato nello stomaco si chiama chime. Quando il cibo entra in bocca, deve essere preparato per la deglutizione. Denti masticano, o masticano, il cibo, iniziando il processo chimico e meccanico di digestione. Gli enzimi nella saliva abbattono i carboidrati e gli emidi. Una volta che il nervo linguale della lingua percepisce che il cibo si tiene insieme in una palla ammorbidita, muove il bolo attraverso i canali formati dalla lingua e dal palato verso la faringe nella parte posteriore della gola. Una volta nella faringe, il bolo tocca i recettori che dicono alle piglottive di chiudersi sopra la trachea mentre il bolo alimentare passa così il cibo non viene aspirato nelle vie respiratorie. Allo stesso tempo, il palato molle si solleva per evitare che il cibo si sposti nel naso. Per questo motivo, masticare, respirare e parlare cessano temporaneamente. Mentre il nodulo si sposta dalla faringe all'esofago, lo sfintere esofageo superiore si apre per consentire il passaggio del bolo, e si chiude dietro di esso per impedire ai liquidi digestivi di entrare nella bocca. Il bolo entra nell'esofago, una lunga struttura tubulare che si contrae in onde ritmiche chiamate per estalsi, spingendo il bolo verso lo stomaco. Alla fine dell'esofago, lo sfintere esofageo inferiore si apre, permettendo al bolo di entrare nello stomaco e si chiude dietro di esso per impedire agli acidi dello stomaco e al cibo parzialmente digerito di entrare nell'esofago. Un'ostruzione alimentare in bolo può verificarsi quando qualcuno con una condizione di base non mastica il cibo, di solito carne, e il cibo rimane bloccato nell'esofago. Gli anelli di scaschi possono causare restringimenti nelle aree dell'esofago, rendendo difficile il passaggio del bolo. L'ostruzione del bolo alimentare può anche essere causata da stenosi peptica, che è un restringimento dell'esofago causato dalla malattia da reflusso gastroesofageo a lungo termine. Le ostruzioni possono essere comuni negli anziani, nei bambini, nelle persone con problemi mentali in quelli che hanno sofferto di un problema di salute debilitante come un ictus. Se l'ostruzione non si risolve da sola, può essere necessario un trattamento di emergenza. I sintomi di ostruzione del bolo alimentare esofageo possono essere dolore al petto, eccessiva salivazione, deglutizione dolorosa o sensazione di soffocamento. L'endoscopia è spesso il primo trattamento per un'ostruzione può non solo rimuovere l'ostruzione, ma diagnosticare la condizione sottostante che l'ha provocata.